Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Feri ASMR Io sono Petrica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR sussurrato Oggi proverò a farvi rilassare facendo un po' di chiacchiere insieme a voi così il whispering abbassa a voto Prima di iniziare vi ricordo di scrivere e trovare se non siete ancora iscritti e di attivare la campanella attivando tutte le notifiche 5 secondi per farlo 5 4 3 Forza, forza, forza 3 2 1 L'hai ancora fatto? Bene dai Allora, durante questo video vi voglio innanzitutto ringraziare voglio ringraziare in particolare alcuni di voi soprattutto per questo che vedete qui questo nuovo bimbo e anche molti altri per la vicinanza che avete dimostrato nei miei confronti durante l'avventura sulla nave da crociare per la costa smeralta quella a borgia nella quale mi hanno bloccata insieme ad altri passeggeri per il problema è già stato l'allarme rischio coronavirus ma andiamo con l'ordine mettete mi piace al video e indossate le cuffie perchè stiamo per iniziare come sapete ho attivato una lista dei desideri amazona la trovate cliccata qui sotto in infobox e da questa lista tantissimi di voi hanno preso delle cosine che possono tornare utile per il canale nella lista dei desideri avevo inserito anche due microfoni come questo e sono dei microfoni professionali che fanno molto bene per l'SML io però ancora non ho capito come debba essere il giusto settato quindi ho improvvisato un po' il setting che speriamo fatta già bene anche se sicuramente dovrà fare altre prove comunque Dani è il donatore di questo microfono ti ringrazio tanto Dani sai che sei veramente speciale per me e fai tanto per questo canale quindi grazie grazie ho invece l'asta microfonica sulla quale è abbottato il microfono mi è stata regalata da Gianluca grazie Gianluca anche lui è un effetto affezionatissimo e mi sono veramente molto grata per quello che ho fatto per il canale in diverse occasioni quindi grazie Gianluca tra l'altro è sempre Gianluca mi ha regalato queste queste vedete cosa sono? sono delle dente insonorizzate e provo a montarle già da domani quindi credo sempre tutto devo aver autodire un po' il suono della strada che proviene dall'esterno detto questo ho bisogno ovviamente dei vostri feedback sull'audio in modo che possa capire che cosa migliorare tenete conto comunque che questa qualità del microfono è diversa rispetto alla qualità del microfono e quindi il risultato è logicamente differente bene 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 ah prima di iniziare a parlarvi della mia strana avventura a porto della nave voglio spendere giusto una parolina per aprirvi del fatto che su public stanno attuando una promozione ed è una promozione a tempo limitato che prevede l'acquisto di 3 magliette 3 magliette al prezzo di 30 euro totali è veramente super conveniente non avrete questa volta bisogno del codice applicato e basterà semplicemente cliccare sul link che trovate in descrizione quello appunto che rimanda al sito di Pumplink e trovate tantissime magliette interessanti da cui anche questa che sto interessando adesso e della quale vi metterò una foto sul mio instagram come al solito bene quindi mi raccomando non c'è bisogno del codice 3 magliette a 30 euro e anche tutte le successive che compriete se volete fare scorto se volete fare dei regali saranno 10 euro mi sembra veramente un ottimo come promozione bene 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 adesso però è giunto il momento di raccontarvi un po' che cosa mi è accaduto in questi giorni chi segue il mio instagram è rimasto super aggiornato su tutto perchè ho fatto tantissime storie in diretta e il giorno poi ho postato varie foto mostrandogli i luoghi che ho visitato si ero in viaggio ed ero appunto in crociera appoggiando la costa smerotta una nave di costa crociera tra l'altro credo l'ultima rilasciata una nave parecchio grande e anche parecchio bella sono stata in viaggio e le tappe previste erano dopo l'imparco a Città Vecchia la Svezia Savona Marsiglia Barcellona Palma di Mallorca e poi ritorno dopo sette notti a Città Vecchia dunque io sono scesa solo a Savona che mi è piaciuta ho fatto una bellissima passeggiata perchè a Marsiglia per esempio ho trovato tempo cattivo quindi non mi andava di scendere mi sono colta la nave poi sono scesa a Barcellona dove ho provato per la prima volta il monopattino anche quelli ho documentato su Instagram delle mie storie comunque nel caso non ho riusciato a tenerle ci sono io che cano semplicemente poi forma di Mallorca è bellissima continuerò nei prossimi giorni a postarvi delle fotografie il vicino di sopra ha zionato la lavatrice credo vabbè comunque è l'ultimo giorno quindi il giorno del quale era previsto allo sparco a Città Vecchia è stato molto molto strano ho dovuto lasciare la pappina alle ore 8 però ci hanno subito quasi subito avvertito il fatto che le autorità sanitarie di Città Vecchia stavano effettuando i normali controlli e che tutte le escursioni previste a Città Vecchia per i passeggeri che sarebbero rimasti ancora altre notti a porto della costa Smeralda sarebbero state garantite e gli spacchi sarebbero dovuti iniziare circa un'ora e mezzo dopo quindi verso non forse anche prima in realtà non è andata così perché continuava a passare l'annuncio che le autorità sanitarie stavano effettuando i normali controlli e questo annuncio è stato dato più volte tanto che a un certo punto abbiamo compreso che forse c'era qualcosa che non stava andando come previsto ma ancora non ci avevano dato altre notizie più approfondite intanto io mi sono resa conto del fatto che la nave era stata circondata da quei nastri bianchi e rossi avete presente? da quelli che si mettono tipo sulle scelte del crimine e mi chiedevo cosa stesse accadendo a porto ma non ricevevo risposte prima era abbastanza tranquillo tranne per qualcuno che si era spazientito perché magari aveva il volo prenotato per andare da qualche altra parte subito dopo lo sparco o qualcun altro che aveva prenotato l'escursione a città vecchia e non stava appunto ricevendo notizie a un certo punto verso l'ora di pranzo se non sbaglio l'hanno già cambiato e ci è stato detto che le autorità ancora non avevano autorizzato lo sparco le autorità sanitarie e poi sono trascorse altre ore insomma fin quando non hanno avvertito che avrebbero rimborsato le escursioni a chi aveva acquistato dei pacchetti perché appunto sarebbero state cancellate per cuore giovine poi ehm nel pomeriggio è stato spiegato che a causa dell'allarme internazionale relativo al coronavirus qualsiasi caso di raffreddore influenza sarebbe stato tentato come oggetto di dovute analisi da parte delle autorità e quindi li abbiamo capito appunto che c'era qualcuno a bordo che manifestava sintomi influenzali la cosa assurda è stata che noi non abbiamo preso le normali notizie dal capitano che in realtà ha palesato la situazione per com'era realmente solo alla fine ma le abbiamo apprese dall'esterno c'era veramente poco campo poco carina però c'eravano notizie prese dall'esterno e niente quindi in sostanza c'erano due passeggeri di una generalità cinese uno delle quali aveva dei sintomi influenzali abbastanza gravi e quindi è stato ritenuto opportuno far su di loro dei controlli medici per accertarsi che non avessero comprato il coronavirus perché poi all'interno si sarebbe potuto sviluppare un'epidemia hanno fatto queste analisi c'è fortuna un po' a un certo punto hanno tentato di farlo sbarcare alcuni passaggiari ma si hanno ovviamente non voleva prendersi la responsabilità di far sbarcare persone infette quindi siamo rimasti tutti all'interno della nave per altro tempo poi ci è stato detto che saremmo potuti tornare nelle nostre cabine e quindi abbiamo capito che avremmo trascorso un'altra volta lì per me poco male perché il clima non era eccessivamente agitato certo c'era un po' di preoccupazione questo non te lo posso negare però si stava comunque bene e alla fine gli spettacoli continuavano ad essere sempre gli stessi c'era il buffet il ristorante aperto e quindi abbiamo trascorso tutti noi che saremmo potuti sparcare quel giorno in realtà una giornata in più di vacanza nella prima parte un po' scomodi appoggiati sui divanetti comunque poi è stato accertato che questi due passeggeri non avessero raccontrato il virus e a quel punto ci hanno dato l'autorizzazione a scendere dalla nave il giorno seguente e siamo spargati normalmente anche se hanno perso un po' le valigie ma dettagli e siamo spargati normalmente il giorno seguente mi avete chiesto in tantissimi cosa pensi io di questa situazione del coronavirus eccetera io non so darvi un parere professionale in merito vi consiglio di seguire delle persone molto più esperte di me che stanno parlando di questo fenomeno e le trovate sia su youtube sia su instagram ci sono molti divulgatori scientifici e medici che stanno facendo una buona informazione posso dirvi che c'è un po' di preoccupazione nell'area soprattutto perché dopo questo incidente questo piccolo incidente di percorso sulla nave sono stati anche accertati due casi di infezione a Roma non sono aggiornata sulla vicenda anzi se voi lo siete per favore scrivetemi qui sotto per vedere i dettagli so solo che ci sono appunto altre persone di nazionalità cinese che a Roma hanno comprato il virus e però appunto c'è questa preoccupazione nell'area ma io lo sto vivendo in maniera abbastanza tranquilla fondamentalmente non sono una persona che tende ad agitarsi tanto che piace mantenere il sacco e freddo delle situazioni anche perché ad oggi credo ci sia proprio un'allarme però comunque questo video sta diventando lunghissimo e meno male che avrebbe dovuto essere solo un video di chiacchiere per provare di nuovo il microfono spero tanto che le impostazioni siano sufficientemente adeguate perché la qualità sia almeno decente come vi ho detto dovrò fare delle prove grazie comunque a tutti voi che mi avete mandato tantissimi messaggi soprattutto su Instagram per chiedermi come stessi e che mi avete dato notizie dall'esterno perché appunto lì io non riuscivo a sapere niente davvero un po' il motivo principale della preoccupazione se vogliamo il non avere notizie dal comandante dal personale della nave anche se capisco che sia stato necessario non generare il panico e per questo le informazioni siano state inizialmente un po' nascoste detto ciò io adesso vi saluto sperando che queste chiacchiere vi abbiano messo a vostro agio che vi abbiano un po' rilassato attraverso il suono della mia voce soprattutto ho tantissime novità da farvi vedere e ho altri regalini da mostrarvi nei prossimi video ve li farò vedere ecco andatevi a seguire su tiktok se ancora non vi state seguendo perchè ho iniziato a produrre video a smr anche lì facciamo le dita spero di essere brava per questo video è tutto e noi ci vediamo come al solito si vediamo nel prossimo che bacini vado così adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte